Ciao a tutti, faccio questo video per denunciare l'ennesima schifosaggine e meratezza, non so se il termine è giusto, di Telecom. Allora, questo in dettaglio è quanto mi è arrivato. 151 e 14. Guardando sul retro, noto che c'è questa voce. Contributi e attivazione una Tantum T-Smart di 98 euro. Chiamo il 187 e mi dicono che siccome io in agosto sono passato da un contratto tutto fibra a un contratto T-Smart fibra, mi avevano detto che servivano solo 49 euro per cambiare tipologia di contratto. Ok, va bene e l'ho fatto. Quando mi è arrivata questa bolletta, ho chiamato il 187, loro mi hanno detto che quando io sono passato da tutto fibra a T-Smart fibra, avevo 90 giorni di tempo per effettuare la domiciliazione bancaria delle bollette. Se io in quei 90 giorni non lo facevo, i 98 euro mi venivano addebitati in bolletta. E io all'operatrice gli ho detto, ma io quando ho fatto il cambio da tutto fibra a T-Smart fibra, a me non mi hanno detto questa cosa che se entro 90 giorni non domiciliavo la bolletta venivano addebitati in bolletta i 98 euro. Mi hanno detto solo che pagavo 49 euro e basta, ed era finita lì. E il che l'operatrice, oh sì sì, io ho detto, ma io quando chiamate Telecom, ogni operatore, se chiamate 10 operatori e chiedete una cosa, vi danno 10 spiegazioni diverse. E l'operatrice mi rispose, ah, apriremo un reclamo, va bene fate il reclamo, ma tanto comunque questi soldi li vogliono. E' una cosa, una merdata inverosimile. Già ti danno un modem della Technicolor che è una merda colossale, è solo un fermacarte grande, in più mi arrivano, guardate, queste cifre qui del cazzo da pagare, ti mentono, secondo me l'hanno fatto apposta, perché tanto così alla fine quei soldi, così glieli pagano, perché se tu entro 90 giorni fai la domiciliazione bancaria, i 98 euro non li paghi, se invece non la fai, glieli devi dare. Secondo me loro vuoi o non vuoi, per me lo fanno apposta, così dopo la gente gli dà sti 98 euro. Guardate, e poi ho chiamato per il problema per il wifi, mi passano SOS PC, mi dicono che se mi risolvono il problema sono 30 euro, se non risolvono non li pago. Quando mi passano la tipa dell'SOS PC l'operatrice, ah no, anche se non risolviamo sono 30 euro lo stesso. E poi la fine cosa fa? Va semplicemente a cambiare le impostazioni nel menu di impostazioni del modem router, e ottimizzazione wifi, disattivazione della frequenza 5 GHz per andare solo 2.4, ma ho detto, ma queste cose le posso fare anch'io, mi fate pagare 30 euro per fare delle cose che posso fare anch'io. Eh ma non tutti lo sanno, ok, non tutti lo sanno, ma non bisogna, anche se uno non lo sa, gli dite come fare, non che gli fate pagare 30 euro per fare queste due cazzate. Telecom è brava, io adesso non so come sono le altre compagnie, ma Telecom è brava a chiederti i soldi. Se hai un problema ti puoi andare anche a fanculo, perché non ti aiutano, però i soldi li vogliono. Il servizio lo paghi, ma se hai qualcosa, ciao. Cioè io in parole povere da tutto fibra, per passare a TeamSmart fibra, 49 li ho già spesi, in più 98, quindi 150 euro per cambiare una tipologia di contratto? Ma voi siete malati, sono un'azienda di mafiosi da Telecom. Io adesso non so come funziona con Fastweb o Vodafone, se ho un tipo, un contratto con una, che cavolo ne so, ho la 500 mega, ho la 300, e sono in una città dove c'è la 1 gigabit, voglio passare a 1 gigabit, non penso che ti chiedano 100-200 euro, o anche dalla DSL per passare alla fibra, ma non penso proprio. No? Cioè sono rimasto esterefatto. Il modem, quello che ho prima con la fibra, era di merda, ma ne hanno dato un altro che magari non dà, si blocca, non si blocca, il wifi dopo un po' non mi arriva più il segnale, segnale mancante. C'è un nuovo modem, che ho visto anche qualche video su YouTube, che è di un'altra marca, della Sercom, che diciamo non è l'equivalente di un modem da 400 euro, però il wifi funziona, funziona meglio, funziona bene, non come quello della Technicolor, che fa cagare al cazzo. E comunque, loro non c'è nel loro... lo vedete dalla pubblicità, cioè se cliccate Smart Modem Team Sercom, ve lo fa vedere dagli immagini, ma nello store della team, nel sito, non c'è in vendita. Se chiamate il 187, ve lo chiedete in sostituzione, vi dicono di no, non so neanche cos'è, idem nei negozi della team. E niente, però se andate su Amazon, lo trovate a 34 euro. Quindi, un pensierino, io ce lo sto anche facendo, comunque, questo è Telecom, funzionano così. Ti raccontano le cazzate, per poi avere solo soldi, se hai qualche problema, non ti aiutano. E niente, questa è la mia ennesima cosa che mi è capitata con Telecom, fatemi sapere anche voi, se vi succedono cose simili. E niente. Ciao belli.